benvenuti a pianeta verde ci troviamo sulle colline piacentine come potete ben intuire i protagonisti di questa puntata saranno l'uva e il vino è un momento importantissimo per ogni viticoltore è il momento della vendemmia però prima di mostrarvi quello che avviene vi raccontiamo la storia della cantina che ci ospita cantine casabella dopo la sigla grazie a tutti 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 per averci invitato qui dove c'è la sede dei vostri vigneti ci troviamo a Ziano Piacentino mentre la sede operativa della vostra azienda è invece a Castellarquato in un'altra bellissima località insomma siete un po' l'emblema di Piacenza di questo territorio un'azienda che per quanto riguarda la sua storia è nata nel 2019 perché nel 2019 le ha preso in mano questa che era una realtà ben fondata nel territorio e soprattutto ha deciso di dare una svolta seguendo l'agricoltura biologica grazie a tutti 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 e con cimi organici. Quindi da qua la scelta di trasformare questa azienda che prima era a conduzione convenzionale a conduzione biologica. Ora devono passare tre anni che vengono definiti di conversione per poi divenire biologica a tutti gli effetti. Ora ci troviamo nel periodo di conversione. Sono due anni che non usiamo più prodotti chimici in vigneto. Scattiamo una fotografia di questa azienda. Casa Bella è una delle aziende vinicole più antiche della provincia di Piacenza. Questo corpo di dendale nella fattispecie è stato fondato negli anni 20 del secolo scorso ed era un'azienda a conduzione privata fino alla fine degli anni 80 quando è passata nell'ambito della sfera del mondo cooperativo, di un'importante cooperativa piacentina e fino poi quindi al 2019 quando è entrata invece a far parte del nostro gruppo vinicolo. Ed era l'azienda di riferimento della Valtidone perché ci troviamo in un'azienda che ha un'estensione di circa 35 ettari invitati in corpo unico che è una cosa abbastanza inusica usuale in zona perché di solito le superfici aziendali sono frammentate, frazionate. Invece questa era stata già impiantati questi vigneti quasi 100 anni fa già in un'ottica di innovazione tecnologica per l'epoca. Quindi già la forma di allevamento, il sesto di impianto erano all'avanguardia con poi la cantina di trasformazione all'interno del corpo aziendale come è rimasta tuttora. Naturalmente sono stati fatti delle migliorie dal punto di vista strutturale, dal punto di vista degli impianti, però è rimasto tutto come era, sia nella superficie, nella dislocazione e negli ideali di allora, con naturalmente questo riguardo verso le innovazioni sperimentali che tutt'oggi contraddistinguono il nostro modo di vedere e la viticoltura. Su quanti ettari si estende la vostra azienda e quali sono i vostri cavalli di battaglia, le vostre uve? Questo corpo aziendale, denominato Casabella, si estende su 35 ettari evitati e le tipologie di uva che vengono coltivate sono ortrugo e malvasia di candia aromatica per quanto riguarda i bianchi, barbera e bonarda per quanto riguarda i rossi che poi vanno a comporre la doc gutturnio dei colli piacentini. Diciamo che il territorio piacentino è strettamente legato al vino, cioè l'economia di un intero territorio passa anche dal vino. E se non erro, proprio Ziano Piacentino, il comune che ci ospita, è il comune con la superficie evitata più alta d'Italia. Sì, esattamente. Ziano è il comune con la più alta percentuale di superficie evitata in Italia. Noi qua siamo ai confini con l'Oltrapopavese, è una terra di confine, quindi partiamo da questa vallata che è la Valtidone, è la vallata più a ovest della provincia di Piacenza, per finire attraverso la Val Trebbia, la Val Nure, poi per finire in Val Darda che invece è la vallata più a est della provincia di Piacenza. Sono quattro fiumi che confluiscono in modo parallelo nel Po e proprio per questa conformazione geografica ogni vallata è ideale per la coltivazione dei vigneti dai 180 a 200 metri fino ai 500 metri di altitudine. il microclima, il terroir, l'esposizione di ogni vallata è quasi completamente a sud, quindi la vigna prende delle ore di sole all'anno in modo ottimale, la primavera di solito piovosa, l'estate ventilata e asciutta sono tutte caratteristiche che rendono il territorio piacentino molto evocato alla viticoltura, tant'è che anche in epoca antica, quindi parlo del 100-200 d.C., Piacenza era già allora conosciuta agli antichi romani come zona dove si producevano degli ottimi vini, tant'è che venivano bevuti anche in Senato a Roma. Quindi davvero una lunghissima tradizione quella che lega il territorio piacentino a questa bevanda, che è un po' la bevanda degli dèi, insomma veniva riconosciuta per le sue proprietà, non solo per la sua bontà ma poi perché anche il vino ha delle proprietà che fanno bene anche al nostro organismo, ovviamente si è consumato consapevolmente. Con moderazione. Con moderazione. Sicuramente la scelta di un'agricoltura biologica è una scelta imprenditoriale coraggiosa, perché sappiamo che bisogna rispettare determinate regole e si dice, ma poi non è sempre così, che quando ci sono delle produzioni biologiche ci sono anche dei minori raccolti rispetto, rispetto diciamo a delle produzioni convenzionali, questo perché si segue di più la stagionalità, per esempio per certe culture, oppure perché appunto si interviene meno e quindi in caso di attacchi di parassiti, insomma c'è tutto un altro sistema di intervento, però è una scelta che dobbiamo fare, insomma è la via giusta quella da seguire, quella di essere un po' più rispettosi per il nostro ambiente, quella che voi avete fatto. Sicuramente per noi è fondamentale, è vero, è vero perché a differenza di un'agricoltura convenzionale, la copertura contro le malattie, in questo caso della vite, è molto minore in un'agricoltura biologica, quindi per ovviare al problema della malattia bisogna essere molto più attenti nei tempi e nei modi dei trattamenti, ciò non toglie che comunque poi però i risultati al momento del raccolto si vedono se si è avuto questa oculatezza nella gestione dei trattamenti, perché il prodotto organoletticamente è sicuramente superiore, perché non ha ricevuto stress esterni e non da ultimo noi crediamo che sia una scelta molto rispettosa nei confronti dell'ambiente perché oggi il rispetto dell'ambiente secondo noi è diventato di primaria importanza perché noi, come dico sempre io, siamo in prestito, non su questa terra, ma dobbiamo rispettarla per lasciarla poi a chi viene dopo di noi nel senso nel modo più sano possibile. C'è grande fermento in azienda perché è tempo di vendemmia, la vendemmia è uno dei momenti più importanti nel quale proprio si tirano le stagioni e si fanno i conti con quella che è stata la stagione e con quella che sarà l'annata vinicola. Come si vive in questi giorni, in questi mesi? In senso proprio letterario si raccolgono i frutti del lavoro di un anno intero perché insomma c'è da pensare che finita la vendemmia dopo poco tempo si incomincia la fase della potatura, siamo al mese di ottobre inoltrato e da lì la vita richiede un lavoro continuo mese dopo mese fino alla vendemmia successiva e con tutti i rischi annessi e connessi può venire una gelata come è capitato in anni passati per concludere il raccolto dell'anno può venire una grandinata e portare danni importanti quindi per noi questi 20 giorni di vendemmia rappresentano la chiusura del cerchio del lavoro di un anno intero. Ci sono delle aspettative importanti per quest'anno, per quest'annata? Sì, è un'annata decisamente direi ottima, le condizioni climatiche sono state ottimali, poco piovose rispetto a un'annata media ciò ha portato a una minor quantità di uva che sarà raccolta però qualitativamente sembra un'annata molto buona con dei livelli qualitativi molto alti. Per ottima annata cosa si intende? Per ottima annata si intende un giusto connubio tra quelli che sono i profumi quindi tutta la parte organolettica dell'uva e quindi di conseguenza del vino uniti a una struttura e un corpo del vino stesso di eccellente qualità quindi è un'annata molto equilibrata, molto soddisfacente dal punto di vista qualitativo un'annata che non presenta particolari difetti e questo è una cosa molto importante perché evita poi delle grossi interventi in cantina che non saranno necessari quindi nel più totale rispetto della naturalità del prodotto. Benissimo, io adesso mi sposto in vigna per entrare nel vivo della nostra trasmissione proprio per vedere le fasi di raccolta dell'uva e poi della lavorazione fino a quando vedremo poi un bellissimo, buonissimo, profumatissimo vino nel bicchiere con il sommelier nella seconda parte della puntata. Ci ritroviamo più tardi. Perfetto, a dopo. Grazie. Entriamo proprio nel vivo della nostra puntata per capire che cosa significa fare viticoltura biologica lo facciamo con Stefano Tessa che è l'enologo di questa azienda ci troviamo ovviamente in quello che è un vigneto, alle nostre spalle la vendemmia in corso abbiamo già detto questo momento così, importante poi capiremo anche il perché. Come capiamo che ci troviamo all'interno di un vigneto bio? Il vigneto biologico viene allevato con delle tecniche, soprattutto in fase di allevamento dell'uva usando dei trattamenti classici tradizionali che sono a base minerale e non vengono utilizzate delle sostanze di sintesi, quindi fondamentalmente si utilizza prodotti a base di rame, di solfato di rame e prodotti a base di zolfo. Il rame soprattutto per quanto riguarda le avversità tipo i funghi la peronospora e lo zolfo contro l'oilio. Fondamentalmente sono queste due qua le sostanze principali con cui si combattono le principali avversità dell'uva. Per quanto riguarda invece gli insetti si usano prodotti a base di piretro o altre sostanze permesse dalla viticoltura biologica che sono tradizionali, che si usavano tanti anni fa e non sono quelle di sintesi che sono utilizzate nell'agricoltura tradizionale o diciamo chiamata convenzionale. La differenza fondamentale in pratica è questa qua. Per quanto riguarda la gestione non tutte le vigne possono essere trasformate in biologico perché dipende molto dalla pressione che queste vigne sopportano dal punto di vista dei parassiti. Vigneti soggetti a una forte pressione, cioè in zone umide dove c'è molto ristagno, dove c'è poca ventilazione, saranno molto più soggette a queste patologie e quindi difficilmente possono essere trasformati in viticoltura biologica. Dal punto di vista della mano d'opera ovviamente un vigneto biologico è molto più soggetto a operatività, mi spiego, se per quanto riguarda i prodotti di sintesi si può lavorare a calendario, cioè uno fa un trattamento ogni 10 giorni, ogni 15 giorni perché il prodotto di sintesi ti permette comunque di avere un po' più di margine, di organizzazione. Per quanto riguarda la parte biologica il concetto è che si cerca di lavorare in base alle condizioni del tempo, cioè quando piove comunque bisogna andare a trattare, perché il prodotto viene dilavato e lavorando non in profondità della pianta, che la pianta non lo assorbe, ma rimane tutto esterno, bisogna rimetterlo sulla pianta, cioè la pianta deve continuamente essere coperta. Altro concetto, quando la pianta è in fase di accrescimento, cioè durante l'anno, la pianta continua a allungarsi e a fare delle parti nuove verdi e queste parti nuove non sono coperte dal prodotto e quindi man mano che cresce la pianta va sempre coperta con questi prodotti, quindi è una viticoltura ovviamente più impegnativa, anche questo è un fattore che è importante soprattutto per quanto riguarda la gestione e l'organizzazione dell'azienda. Ovviamente parlando di agricoltura biologica non si può non parlare di stagionalità, di ciclicità, mi sembra di capire che in agricoltura bio ha maggior ragione se è la natura che comanda. Sì assolutamente, in quanto bisogna proprio seguire l'andamento stagionale e l'andamento climatico, ci sono annate in cui il ciclo, le piogge, il susseguirsi degli eventi atmosferici ti permettono di fare un certo numero di trattamenti, ci sono annate in cui a causa delle maggiori piogge, delle minori ventilazioni, devi farne molto di più. Bisogna partire sempre dal terreno, qui ci troviamo in collina, quali sono le caratteristiche di questo terreno che poi rendono un'uva del genere e ovviamente un vino di qualità? Intanto la prima cosa fondamentale è il terreno in collina, in collina perché la collina avendo un declivio fa sì che l'acqua non ristagni, quindi abbia un normale movimento verso il fondo valle e il terreno si asciughi prima, quindi asciugandosi prima l'acqua è uno dei principali fattori che porta alla crescita della parte verde della pianta, quindi le piante sono naturalmente più soggette ad essere regolari, non ci sono delle esplosioni di foglie, delle esplosioni di verde che portano comunque la pianta a un grosso accrescimento, quindi a indebolirsi e per cui a essere più deboli verso anche le patologie e a essere meno controllate come forme di elevamento. Il motivo principale per cui la collina è l'habitat ottimale per lui è proprio questo, che l'acqua non ristagna fondamentalmente e quindi la viticoltura di collina è ovviamente il massimo che si può avere rispetto chiaramente alla viticoltura dove invece si preferisce produzioni un pochettino più quantitativamente maggiori, proprio perché l'acqua di solito non manca mai in collina, anzi al contrario negli ultimi anni dove assistiamo a precipitazioni minori, nelle parti soprattutto elevate della collina c'è un problema di siccità. Il ciclo vitale appunto della vite qual è? Allora il ciclo vitale partiamo dall'inverno che diciamo è un po' il punto zero, l'inverno cadono le foglie e viene effettuata la potatura, la potatura è un'operazione chiaramente artificiale fatta per far rimanere l'impianto sempre più o meno uguale tutti gli anni. Questo di solito nei primi mesi dell'anno? E viene fatto diciamo nelle fasi invernali, fine autunnali invernali perché la pianta è ferma quindi non produce linfa, le foglie sono già cadute e la pianta viene potata perché per far tornare la produzione sempre al punto iniziale, l'ottimale sarebbe, ottimale in via teorica, che la pianta fosse tutti gli anni uguale, la dimensione delle piante sia tutte uguale perché? Perché poi le operazioni meccaniche che verranno fatte nella fase produttiva devono essere sempre sulla stesso tipo di pianta, della stessa forma geometrica e anche di dimensioni, quindi viene potata e viene riportata nelle dimensioni ottimali per eliminare le parti che non saranno più produttive. In primavera la pianta comincia a germogliare e da qua comincia tutta la fase di gestione della chioma e protezione dagli agenti parasitari. Le lavorazioni che si fanno in questi mesi sono molteplici e sono variabili a seconda della forma di allevamento. Parlo di forma di allevamento perché ci sono delle piante che vengono, ci sono dei sistemi di allevare la pianta della vita che sono abbastanza diversi, sono sistemi con la parte produttiva che viene potata, viene tagliata ogni anno, si riproduce la pianta che sono i sistemi che vengono, il classico sistema il più conosciuto è il guillo. Qui vediamo dell'uva che è pronta per essere raccolta, ma come arriva a questa versione? Allora siamo rimasti che praticamente nelle prime fasi c'è l'accrescimento delle foglie e soltanto verso i mesi di metà primavera avviene la fioritura. Tutte queste fasi vengono sempre comunque controllate per quanto riguarda le avversità antiparassitarie perché i parassiti colpiscono le foglie e il grappolo dall'inizio della stagione e la fase della fioritura è molto critica perché è comunque sempre una fase delicata in cui sarebbe l'ottimale riuscire a non trattare in queste fasi. Avvenuta la fecondazione dei fiori c'è la fase di allegagione in cui cominciano già a ingrandirsi i piccoli acini di uva che man mano nella prima fase del crescimento vegetale aumentano come numero di cellule e ingrandiscono e poi c'è la trasformazione, l'ingrandimento, l'ingrossamento con liquido praticamente nella parte finale. C'è una fase in cui l'uva cambia di colore che si chiama invaiatura che avviene circa dai 40-45 giorni prima della raccolta in cui l'uva da verde perde il colore verde e assume i colori tipici della varietà e l'ultima fase è quella che dà proprio la maturazione e che anche dà la qualità del vino, è molto importante il tempo, il clima, la mancanza di pioggia o le piogge regolari sono quelle che rendono un'annata grande rispetto alle altre. In questa fase siamo praticamente pronti alla raccolta, questi sono grappoli di malvasia che è malvasia di candia aromatica, il nome è corretto perché è diversa dalle altre malvasie, in Italia ce ne sono tantissimi tipi, questa è proprio quella di candia aromatica tipica di questa zona ed è pronta per essere raccolta. La vendambia ovviamente è qualcosa che non si può programmare, si può ipotizzare un periodo che cambia in base appunto alle varie regioni italiane ma il giorno esatto non c'è, si decide del momento, come facciamo a sapere qual è il momento giusto, l'uva a che punto è? Allora è una scelta non sempre facile perché non sempre è sufficiente guardare l'uva per decidere quando raccogliere e non sempre ci si può fidare su quello che è successo negli anni precedenti. Ogni annata ha un po' la storia a sé e la cosa migliore è effettuare un campionamento in vigneto, ci sono delle tecniche, diciamo, pseudostatistiche per decidere come raccogliere questi campioni e una volta che in pratica si viene nella vigna si prelevano dei grappoli o degli acini, diversi acidi, 200-300 per età, dipende un po' da come uno è abituato e si effettuano sia le analisi chimico-fisiche che fondamentalmente sono la misura del grado zuccherino e dell'acidità del pH del mosto che fuoriesce da questa piccola pigiatura e anche la degustazione, molto importante soprattutto negli ultimi anni, ultimi 15-20 anni si è sviluppata questa tecnica di degustazione dell'uva che ha delle caratteristiche, delle regole molto precise che aiuta molto l'enologo nella scelta del momento migliore. Quindi il momento migliore è stato appunto definito come fine di agosto, primi di settembre che cosa ci dice appunto quest'uva, che cosa le ha raccontato, che annata sarà? Quest'anno la vendemia è leggermente posticipata rispetto alla serie storica degli ultimi anni legato alla partenza più lenta in primavera e a questo andamento sagionale, è un'annata molto buona, l'uva è molto bella, maturata lentamente, abbiamo avuto sì delle temperature elevate in un certo periodo ma comunque abbastanza limitato nel tempo, nell'ultima settimana e mezza abbiamo avuto temperature notturne che sono molto importanti, abbastanza normali o basse per il periodo rispetto agli ultimi anni sicuramente e quindi l'uva di notte riesce a non essere soggetta a temperature elevate, quindi l'acidità dell'uva rimane, non viene consumata e il rapporto zuccheri e acidità è ottimale per la raccolta, inoltre non essendo stata scottata dal sole o bruciata da temperature, gli aromi e i precursori di aromi che ci sono dentro l'acino sono rimasti abbastanza integri e in quantità elevata, quindi secondo me l'annata per adesso è ottimale, ovviamente dico per adesso perché siamo sotto il cielo aperto e quindi se il tempo cambia, speriamo di no, può cambiare tutto da qua alla fine della vendemmia perché la vendemmia è lunga, noi abbiamo una vendemmia che può durare anche più di un mese e mezzo in certi casi, non è così negli ultimi anni ma quest'anno durerà più degli anni scorsi proprio perché l'uva la sta maturando lentamente. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Abbiamo già raccontato di quanto è importante il momento della vendemmia perché effettivamente in questi giorni si decide poi quella che è una stagione, poi ci sarà ovviamente il lavoro in cantina ma qui è in campo che si decide un'annata. sicuramente la vendemmia ha anche una sorta di folklore, un momento attesissimo e ci viene raccontato da secoli diciamo, questa ha una tradizione lunghissima anche di colore. Certo sì, sono storiche tutte le immagini che noi ricordiamo delle vendemmie, una volta diciamo che la vendemmia durava anche molto di più perché erano minori le capacità di organizzazione nel campo, minori la meccanizzazione quindi le vendemmia duravano anche due mesi e quindi l'inizio era comunque una festa, era proprio la fine di un lavoro di un anno che si concretizzava nell'operazione di vendemmia e di pigiatura, quindi sono storiche queste rappresentazioni anche nelle aie delle cantine, era proprio una festa, la vendemmia era una festa, è una festa anche oggi perché alla fine comunque lo spirito è rimasto quello, ovviamente ci sono aspetti diversi, tutto il mondo è andato organizzandosi diversamente ma rimane comunque sempre una festa, cioè il fatto di poter chiudere un'annata di lavoro perché finché l'uva non arriva in cantina, diciamo al sicuro non si può dire nulla, cioè siamo comunque ripeto sempre sotto il cielo, può succedere, mettiamo e facciamo gli scongiuri, una grandinata e tutto il lavoro di un anno viene rovinato, quindi la soddisfazione è sempre la stessa. Lo stesso raggrupparsi di persone che si raccoglie, quando si raccoglie ci sono le persone che scherzano, che parlano, cioè per passare comunque c'è un lavoro fisico, ma la gente comunque è sempre un... si fanno due chiacchiere, si fa la risata, si fa la battuta, comunque questo spirito c'è ancora. Abbiamo visto la Malvasia, quindi uva bianca e invece adesso ci troviamo in una parte del vigneto in cui troviamo uva nera. Sì, qua siamo in un vigneto di Barbera, che è una delle quattro uve tipiche di questa provincia, della provincia di Piacenza e della Doc Colli Piacentini. Questo non è ancora pronto per la vendemmia? No, non è ancora pronta, non manca molto, non manca molto, ma non è ancora pronta. Non manca molto in quanto la maturazione non è ancora ottimale. Abbiamo fatto dei campioni in questa settimana e siamo ancora circa una decina di giorni dalla maturazione. Qui possiamo osservare che queste foglie, diciamo così, che questa vite è in salute. Ci sono però dei parassiti, come abbiamo già accennato, che sono davvero pericolosi per la sopravvivenza di un vigneto. In agricoltura biologica è possibile intervenire per salvare la vite, però è fondamentale la prevenzione. Certamente, come dicevo prima, la prima cosa fondamentale è posizionare la giusta varietà nel giusto terreno e nella giusta zona. Ripeto, vigneti più in zone dove c'è un ristagno idrico, dove c'è un ristagno non c'è vento, poco ventilati, sono difficilmente coltivabili con coltivazione biologica. Quindi la prima cosa è questa qua. I parassiti invece? I parassiti per quanto riguarda gli insetti, diciamo che sono ubiquitari e per cui vengono combattuti comunque a prescindere dalla loro zona. Il discorso che ho fatto prima vale soprattutto per quanto riguarda la parte dei funghi e delle muffe. Gli insetti volano e quindi si spostano abbastanza facilmente. In questo caso voi, in caso di attacco di funghi, come intervenite? Allora, per quanto riguarda il biologico abbiamo due armi fondamentali, sono il solfato di rame e per quanto riguarda la pernospora e lo zolfo, prodotto a base di zolfo per quanto riguarda lo idio, che sono le due principali armi che noi utilizziamo. Oltre a pratiche agronomiche, tipo la gestione della chioma, ovvero liberare il grappolo dalle foglie, l'uva è coperta dalle foglie, si crea un microclima molto umido e lì si fa fatica a salvare. E' più facile che prolifino le muffe, gli insetti stessi ed è complicato. Grazie a tutti. Diciamo che la partita in campo, in vigna, è stata giocata, il secondo tempo invece si gioca in cantina? Certamente. Andiamo a vedere cosa succede con le fasi di pigiatura e poi successivamente fino all'imbottigliamento. Bene. Sta arrivando il trattore con l'uva che è stata appena raccolta per essere pigiata? Sì esatto, l'uva dalla vigna viene portata qua in cantina tramite questo rimorchio e adesso l'operatore scaricherà l'uva nella tramoggia che conterà quindi tutta la massa di uva raccolta e dalla tramoggia l'uva poi passa nella macchina che andrà a pigiare l'uva e di respare a pigiare, che vuol dire che gli acidi vengono schiacciati e i raspi vengono eliminati da tutta la massa. Quindi poi per mezzo di una pompa e di una tubazione tutta la massa andrà nella pressa dove avverrà l'operazione di separazione delle parti solide, ripeto, bucce, vinaccioli e residui di raspi dal mosto. Qui siamo nella cantina vera e propria, che cosa avviene? Ecco qua siamo nella cantina dove praticamente l'uva che arriva dal vignetto viene lavorata e diventa mosto. Nel mosto poi parte tutto il processo di trasformazione degli zuccheri in alcol e quindi la vinificazione, l'uva, il mosto diventa vino. Non è un'unica operazione, ci sono diverse operazioni che variano da vino bianco e vino rosso. Dopo la fase di pigiatura l'uva bianca, perché parliamo di ciclo di vinificazione dell'uva bianca, che è quello che sta avvenendo in questo momento, viene spinta, viene portata mediante una tubazione in una macchina che si chiama pressa, che effettua la separazione delle parti solide dal mosto. Quindi sono le tre parti che non devono rimanere a contatto o devono rimanere a contatto il minor tempo possibile, perché contengono delle sostanze che se finissero nel mosto lo renderebbero molto facilmente ossidabile, cioè accorcerebbero la sua vita futura e molto colorato e ricco di sostanze amare, tanniche e amare. La fase successiva è quella di pulizia di questo mosto, chiamiamolo torbido, da queste particelle, perché se noi fermentassimo questo mosto così torbido, daremo origine a vini grossolani, ricchi di difetti portati da queste particelle ancora presenti, poco fini, poco fruttati, poco freschi, che non sono più accettati dal consumatore attuale. Il mondo del vino è evoluto negli ultimi anni e quindi anche i consumatori richiedono dei vini più puliti, più freschi, con profumi più netti, le varietà devono riconoscersi, per cui noi dobbiamo ottenere un vino di queste caratteristiche. A questo punto il mosto è pronto per partire nella fase fondamentale che è la fermentazione. Dove sta la maestria dell'enologo? La maestria dell'enologo sta in tutte le fasi, non c'è una fase in cui si possa dire che questo è la maestria dell'enologo. Esistono i momenti fondamentali, ma non è un solo momento, è una storia molto lunga, quindi direi che non esiste un momento particolare e la maestria dell'enologo c'è in tutte le fasi. Mentre diciamo che il vigneto è certificato biologico, siete anche in fase di conversione, questa fase di conversione è ancora in atto per quello che avviene in cantina. Come state lavorando attualmente? Attualmente stiamo lavorando in maniera convenzionale, quando passeremo e diventeremo certificati biologici dovremo seguire i canoni della vinificazione biologica. Che prevedono? Non ci sono delle grandissime differenze, in quanto la maggior parte dei prodotti che già si utilizzano sono certificati o certificabili biologici, per cui non ci sono delle grandi differenze. Alcuni prodotti non sono permessi e quindi non verranno utilizzati. Tipo? Tipo, adesso mi viene in mente il PUPP o qualche tipo di, cioè abbiamo una minor scelta sul tipo di prodotto, su certi ceppi di lievito non potremmo usarli, ma, ripeto, la vinificazione biologica non comporta grosse limitazioni, di fatto rispetto, perché comunque parliamo di un prodotto naturale, di per sé stesso naturale, e quindi diventa automaticamente biologico. Cioè in cantina la parte chimica è comunque ridotta veramente quasi a zero oramai. Ma è possibile vedere questo mosto? Certo, andiamo! Eccolo! Questo qua è il mosto dell'uva pigiata ieri pomeriggio, che ha subito tutte le operazioni di cui abbiamo parlato prima, e quindi si presenta pulito, privo di particelle solide, leggermente velato, perché non vogliamo un prodotto troppo pulito, perché se no abbiamo tolto troppo, deve essere della giusta torbidità. Da qui, da questo mosto, parte tutto il viaggio che arriverà poi dopo la fermentazione alcolica al vino. Quindi a questo punto noi aggiungiamo dei lieviti selezionati, che saranno gli attori principali della trasformazione degli zuccheri del mosto, dell'uva, che sono glucosa e fruttosio, in alcol e tutti i prodotti che daranno origine al vino. La fermentazione alcolica durerà, è un processo che durerà circa dai 15 ai 20 giorni, viene condotta, nel caso dei vini bianchi soprattutto, a temperatura controllata, intorno dai 18 ai 20 gradi, perché è un processo che produce calore e va tolto, perché se lasciamo scaldare troppo il mosto di fermentazione, si originano prodotti poco fini, perdiamo i profumi, perdiamo il fruttato e quindi vanno tolte le calorie mediante un sistema di raffreddamento esterno alla masca. Terminata la fermentazione alcolica, vuol dire che tutti gli zuccheri sono stati trasformati in alcol dai lieviti e il vino è arrivato alla fine del primo viaggio. Quando si parla di vino si parla anche di solfiti? Sì, esatto. Uno degli additivi classici che si utilizzano è il bisolfito, cioè l'anidride solforosa, sotto forma generica di sali di bisolfito, che ha una duplice funzione di antimicrobico, in quanto seleziona fortemente la microflora, favorendo i lieviti, i saccharomyces serovisie e sfavorendo tutti i batteri e i lieviti chiamati così, genericamente apiculati, che sono quelli tipici dell'uva, che non danno origine a prodotti corretti, anzi danno origine a prodotti difettosi. e quindi la prima azione è quella microbiologica, di selezione microbiologica e la seconda è il fatto di essere un forte antiossidante. Il vino, come tutti i prodotti alimentari, ha un inizio e una fine e questo processo è legato al consumo dell'ossigeno, quindi alla sua ossidazione. Per evitare che il vino si invecchi troppo velocemente, utilizziamo tra le altre cose il bisolfito. L'importante, e questa è l'importanza della tecnologia e del savoir-faire, anche dell'enologo, ecco è uno dei punti chiave dell'enologo, è utilizzare nel meno possibile. Questo vuol dire essere molto precisi, come tempi, come gestione delle quantità aggiunte e conoscere bene il processo di unificazione. Se si conoscono, se si seguono queste regole, si riesce a minimizzare la quantità di anidride solforosa, quindi di solfiti, aggiunti al vino. Ci sono dei limiti che devono essere rispettati? Sì, certamente, ci sono dei limiti molto precisi, legali molto precisi, noi che sono comunque abbastanza elevati, noi cerchiamo di stare molto più bassi di quelli che sono i limiti legali, perché… Che sono i limiti legali? Allora, nel caso dei vini bianchi, tipici della nostra zona sono dai 200 ai 250, secondo il rischio zuccherino, milligrammi per litro. Sono dosi di sicurezza dal punto di vista industriale e dal punto di vista alimentare, però noi cerchiamo di stare molto più bassi, di stare molto più bassi della metà, quindi di stare anche sotto i 100 mg per litro di solforosa, di solfiti aggiunti, perché? Perché lavorando con tecnologie moderne, in maniera precisa e col controllo di tutte le fasi produttive, si riesce a stare molto più bassi con la solforosa. Ovviamente stiamo parlando delle fasi di vinificazione e delle uva bianche, però noi abbiamo visto anche delle uve rosse. Ci sono delle differenze? Sì, certo, ci sono delle grosse differenze. Nell'uva bianca abbiamo parlato di separazione delle parti solide, bucce, vinaccioli e raspi, immediata, il più repentina possibile dal mosto. Per quanto riguarda le uve rosse invece non è così, anzi viene effettuato un processo di macerazione, in quanto le sostanze coloranti, le sostanze polifenoliche, i tannini, sono presenti soprattutto nelle bucce e anche nei vinaccioli. Per cui il processo di vinificazione delle uve rosse per produrre vini, uve nere per produrre vini rossi è molto diverso. L'uva viene pigiata e diraspata, i grappoli di uva, in quanto il raspo è un elemento sempre negativo, quindi viene eliminato subito e poi tutto quello che faceva parte del grappolo, ovviamente senza i racchi, viene fermentato, fatto in macerazione, cioè a contatto, il mosto fermenta a contatto con le bucce e i vinaccioli. Soprattutto dalle bucce deriva il colore e i tannini del vino. È una curiosità che forse tutti non sanno, è che in realtà se noi apriamo un acino di uva rossa, di uva nera, la polpa è gialla, il colore è soltanto nella buccia. Nella grande maggioranza delle varietà che noi lavoriamo, se apriamo, potessimo aprire acino per acino, togliere le bucce, il schiacciare solo la polpa abbiamo dei vini bianchi. Quindi è importantissima la fase di macerazione, quindi il processo di vinificazione delle uve rosse è molto diverso. E quindi la prima fase è questa appigiatura e diraspatura, macerazione, inizio della fermentazione, durante questa fase, che può durare dai tre giorni o fino anche al mese, di contatto con le bucce e i vinaccioli, il vino, il liquido, il mosto, poi il vino, estrae quasi continuamente, in maniera graduale e quantitativamente differente a seconda dei giorni, queste sostanze dalle parti solide. E quindi si arricchisce man mano di queste sostanze che sono fondamentalmente antociani, quindi sostanze coloranti e tannini. Quando si parla di vini rossi, di solito si sente parlare di resveratrolo? Sì certo, il resveratrolo è una sostanza che deriva dai vigneti e viene prodotto dalle piante, dalla vigna, dalla vite, come risposta a degli stress che gli derivano da diverse avversità, tra le quali anche le fitopatologie, e si accumula negli acini e spesso nelle bucce e viene poi ceduto, durante le fasi di macerazione, al vino stesso. C'è poi una terza fase molto importante che avviene nella cantina che c'è a Castellarquato. Cosa avviene? Sì certo, diciamo la parte finale qua, il vino una volta che ha terminato il suo processo, rimane stoccato in attesa di essere poi trasportato là, dove avvengono tutte le fasi finali prima dell'imbottigliamento. Quindi a seconda che parliamo di vini fermi o di vini frizzanti o spumanti, avverranno delle operazioni successive che termineranno con l'imbottigliamento. Di fatto nella nostra regione i vini più prodotti sono i vini frizzanti e i vini spumanti, che prima di essere imbottigliati subiscono un secondo processo di fermentazione, che si chiama rifermentazione, che è da origine ai vini frizzanti o spumanti. In pratica che cosa avviene? Che vengono aggiunti una piccola percentuale di mosto, quindi di zuccheri derivanti dall'uva, a questi vini, che subiscono un nuovo processo di fermentazione. In questo piccolo processo di rifermentazione quello che ci interessa è la CO2 prodotta dall'anidride carbonica, che poi diventerà bollicine una volta che apriremo le bottiglie. Quindi avviene in recipienti che si chiamano autoclavi, che sono recipienti adatti a contenere liquidi in pressione, questi zuccheri fermentati nel vino danno origine a un po' di alcol e un po' di CO2 che rimane sciolto nel vino e man mano che si scioglie fa crescere la pressione all'interno del vino. Mediamente quanto tempo riposano i vostri vini in botte? È un tempo molto variabile, nel caso dei vini frizzanti e degli spumanti normalmente parliamo di settimane o qualche mese. Nel caso invece particolare dei vini invecchiati in legno, che è un caso particolare, però parliamo soprattutto di vini fermi, si può arrivare fino anche a due anni, ma è soltanto il caso dei vini rossi, fermi, invecchiati in legno. Di solito i vini tipici della nostra zona sono, per appunto frizzanti e spumanti, vini da consumare nel giro di uno o due anni. La ringrazio tantissimo, io adesso vado a vedere le fasi finali che sono quelle di imbottigliamento, etichettatura e confezionamento e poi questo vino sarà pronto ovviamente per essere stappato. Grazie ancora! Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie! Piacenza che è la Malvasia, Malvasia di Candia che noi riusciamo a vinificare in diverse versioni, secca, spumante, dolce, addirittura immersione passito, in questo caso è secco e fermo e la particolarità di questo vino è che ha una grande aromaticità, quindi abbiamo visto il piatto, abbiamo sentito i profumi e l'aromaticità della Malvasia e abbiamo visto che l'abbinamento è perfetto. Il primo piatto invece lo abbiniamo con? Con il vitigno ottono che esiste solo a Piacenza, mi spiace per gli altri che non ce l'hanno, è l'ortrugo. L'ortrugo è un vitigno che è sempre stato utilizzato a Piacenza, utilizzato come taglio con altri vitigni, una spiccata acidità con dei bei profumi e abbiamo accostato a un altro piatto molto tipico pesentino che sono i tortelli burro e fuso e salvia. Passiamo poi ai rossi. Allora tornando ai rossi e tornando ai piatti un po' più robusti, i pisserè e fosè, i ravioli dei poveri perché è un piatto molto povero e qui abbiamo Piacenza, Gutturnio di Piacenza, è un vino che anche qui produciamo in diverse versioni, il frizzante, il superiore, la riserva, questo è quello più giovane, più vivace, più frizzante su un piatto rosso che è l'abbinamento anche qui ideale. Con questo secondo invece? Sì perché con questo magnifico piatto di carne avevamo bisogno di un vino sempre un po' più importante, quindi siamo rimasti nell'ambito del Gutturnio perché è il vino che rappresenta Piacenza per eccellenza, è un 2016 più strutturato, un po' più alcolico, un po' più corposo perché con un piatto di carne avevamo un vino con delle spalle larghe. Arriviamo poi e concludiamo con un dolce, con un dessert. Con un dolce, il dolce molto tipico, il dolce piacentino praticamente e qui altro malvasia, abbiamo visto la prima ferma e qui siamo arrivati sulla malvasia dolce, quindi la malvasia che proprio si adegua al modo in cui vogliamo vinificarlo dando comunque sempre cose meravigliose, in questo caso dolce con dolce e abbinamento ideale. È sempre molto d'impatto ma una degustazione, come avviene, come si fa? Non so, prendiamo il primo vino, prendiamo questa malvasia, molto bello, un colore molto bello, qui è un giallo dorato. Quindi prima si osserva il colore? Guardare il colore perché guardare poi la limpidezza vuol dire che Casabella ha lavorato molto bene perché l'ha vinificato molto bene, vedete com'è brillante, com'è lucente, qui vuol dire che l'attrezzatura che voi avete visto in cantina ha funzionato bene, quindi il colore che ci dà l'età di un vino giovane, una buona consistenza, una buona gradazione alcolica che si vede dagli archetti. Poi passando all'esame olfattivo sentiamo l'intensità dei profumi, quindi quanto profumo e quanto tempo durano nel tempo. è lungo, è intenso, persistente e fine e poi è fruttato, floreale, fragrante, gruppi di profumi per arrivare all'aromaticità, è il frutto e il fiore specifico. Il profumo tipico di questo vino è la salvia e guarda caso la salvia, pensiamo ai tortelli qualche volta la salvia del tortello, anche qui un altro abbinamento ben riuscito. In bocca è secco, caldo, morbido, una buona freschezza, una buona acidità, un buon equilibrio e una grande lunghezza di bocca. Vino fatto molto bene, complimenti a Casabella per questo vino. Io la ringrazio davvero, adesso raggiungo il Presidente per i saluti finali. Grazie a voi. Eccoci qua, ritroviamo Pietro, il Presidente di Cantine Casabella. Dobbiamo fare una riflessione sul mondo del vino. Come si collocano i vini piacentini e anche la vostra cantina a livello italiano? Dove sta andando il vino italiano? Il vino piacentino nella fattispecie ha un ampio raggio di consumatori nella zona più prettamente del nord Italia per una questione geografica. I nostri vini piacentini non sono molto conosciuti a sud Italia proprio perché sono vini che spesse volte sono vini frizzanti e non rientrano nell'immaginario collettivo delle zone dal centro o sud Italia. Perché i nostri vini piacentini sono prettamente vini frizzanti? Ma chiaramente è un rimando, è un retaggio storico dovuto al tipo di cucina piacentina o comunque delle miglie in genere dove si annoverano il più alto numero di vini frizzanti. Sono cucine molto succulente, corpose, grasse, che richiedono un vino particolarmente frizzante per sgrassare la bocca da questa untuosità dei nostri piatti. Di conseguenza è rimasto come tradizione questo modo di vinificare i nostri vini. I consumatori dei nostri vini, come dicevo, sono raggruppati nelle regioni del nord Italia fino al Veneto, l'Emilia, la Toscana, la Liguria, la Lombardia. Sono molto apprezzati e soprattutto tengono alto il nome di questo territorio. Certo, e si può dire che mantiamo anche qualche primato. Infatti il gutturnio frizzante dell'azienda Casabella è il vino doc più venduto in un'unica catena di supermercati in Italia. Mediamente la vostra produzione annua, a che cifre arriva? Noi ci annoveriamo circa sui 4 milioni di bottiglie di vino piacentino prodotto e quindi rappresentiamo un'azienda di, direi, primaria importanza nel panorama piacentino. E la scelta, appunto, lo ribadiamo, dell'agricoltura biologica non può che farvi onore perché appunto da imprenditori quali siete puntare su questo tipo di agricoltura dimostra anche un certo coraggio, una certa sensibilità. Sicuramente non sono scelte facili, come diceva lei, sono scelte coraggiose che però secondo noi nel medio-lungo periodo porteranno sicuramente frutti e soddisfazioni. Infatti, di solito noi concludiamo la nostra trasmissione commentando una citazione. Direi che quella di oggi è azzeccatissima soprattutto con il discorso che lei stava facendo perché è una frase che è stata scritta da un anonimo, una citazione che dice che quando si lavora con la natura è lei che comanda, non bisogna forzarla. Esattamente, è vero, perché la storia ci insegna che le forzature fatte alla natura alla fine si sono sempre ritorte nei confronti di coloro i quali le hanno fatte. Non voglio dire adesso di parlare di disastri ambientali, comunque il concetto è quello. La natura va rispettata e se la natura viene rispettata, la natura si comporta con altrettanto rispetto nei confronti di chi la vive. Benissimo Pietro, io la ringrazio davvero tantissimo perché è stato un piacere vivere insomma quella che è l'esperienza della vendemmia qui da voi e complimenti anche per le vostre scelte lungimiranti. Grazie ancora. Grazie a lei, grazie a tutti. Grazie a tutti voi e arrivederci alla prossima puntata di Pianeta Verde. A presto. Grazie a tutti voi e arrivederci alla prossima puntata di Pianeta Verde. Grazie a tutti voi e arrivederci alla prossima puntata di Pianeta Verde.